Grazie a tutti. A Eneo Sposi l'agurio di una vita da trascorrere insieme ricca di gioia e soddisfazione. A Mirella e Giovanni, alla mamma Lina e alla sorella Luisa Scorrano, ai genitori di Giovanni, Donato e Antonietta, al fratello Mattia e alla sorella Barbara gli auguri più sinceri del direttore Antonio Di Lallo e di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Inoltre oggi compie gli anni anche il nostro collega Gianni Bruno. Per questo suo compleanno gli auguri più sinceri da parte del direttore Antonio Di Lallo e di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Auguri a Gianni, alla mamma Anna Rita, al fratello Daniele e alla nonna Nicolina. Buon pomeriggio, primo appuntamento con il TG Sport di Telemolise. Apriamo con il calcio di Lega Pro. Di fronte alla crisi societaria, i tifosi rosso-bruno stanno di certo a guardare, a subire le situazioni, i fatti che si stanno verificando in questi giorni. Lunedì prossimo, ripeto ancora una volta, scadrà il termine per l'iscrizione alla prossima seconda divisione. Ridotte, per non dire inesistenti, le possibilità che il Campobasso si iscriva. Intanto, a proposito della manifestazione dei tifosi, si terrà martedì prossimo, 2 luglio, alle ore 18, con location da definire. In un primo momento si era parlato dell'incubatore sociale di via Monsignor Bologna a Campobasso. Ora si parla, ma è da confermare, della sala conferenze della provincia di Campobasso. Comunque, il punto della situazione in questo servizio. Lo avevamo percepito in città il sentore di qualche iniziativa del tifo campobassano che non poteva subire pedissequamente un rimbalzo continuo di responsabilità. Tra Capone e Di Palma, sinceramente poco attraente e che, ai noi, sta portando a un inevitabile addio al professionismo dopo tre anni da parte del Campobasso. Il gruppo Zasso ha confermato un incontro fissato per martedì prossimo, 2 luglio, nel quale ci si augura possano accorrere tantissimi tifosi per studiare e discutere di iniziative tese alla riappropriazione della società. Da parte dei Campobassani si discuterà di un tema sempre caro quando di mezzo c'è una crisi societaria, e cioè quell'azionariato popolare sempre vagheggiato e tanto declamato quando la barca viene sommersa di acqua. Invito esteso anche all'avvocato Franco Mancini, professionista del capoluogo da sempre vicino, alle sorti della società Rosso Blu. La location della manifestazione in programma, lo ripetiamo, martedì alle ore 18, è stata spostata dall'incubatore sociale di via Monsignor Bologna alla sala conferenze della provincia di Campobasso, ma quest'ultima notizia è ancora da confermare. Nel frattempo Di Palma tenta di barcamenarsi tra due piste che, afferma lui stesso, sono abbastanza deboli e prive di speranza, quantomeno per riacciuffare per il rotto della cuffia la possibilità di iscrizione in Lega Pro, che come evenienza ci sentiamo di dare all'1%. Il presidente attuale distingue due filoni, uno straniero, l'altro italiano. L'ultima voce, Di Palma e le sue piste, se la scambieranno lunedì prossimo in tarda mattinata, quando scadranno i termini regolari per far parte della prossima Lega Pro. Di Palma in un certo senso non lascia, ma raddoppia in caso di caduta del Campobasso. Il vicentino non lascia spazio a dubbi. I documenti contabili del Campobasso verranno portati in tribunale nel capoluogo per dare l'A all'iter del fallimento. Di Palma poi aggiunge che una delle due piste, vive ma flebili, riacquisterebbe verve se il Campobasso dovesse partire dalla quarta serie. Con ciò Di Palma dà per certo, ma anche qui lo prendiamo con il beneficio di inventario, che ci sarebbe un pagatore tra le sue amicizie pronto a saldare i 300.000 euro che servono per avviare la domanda di ripescaggio in serie D. Salterebbe l'encomiabile piano del Campobasso ai Campobassani, per il quale servirebbe una riunione di forze imprenditoriali, non di un solo portafogli, ma sarebbe comunque un'idea più che condivisibile. L'optimum, diremmo. L'esperienza recentissima porta a diffidare dal personaggio Di Palma, bravo a cambiare tante versioni nel corso di appena 20 giorni da socio di maggioranza del Campobasso, altrettanto abile, dice lui, a rintracciare vecchi crediti della società Rosso Blu su cui si potranno rivalere i creditori del Campobasso una volta dichiarato il fallimento. Ma per favore, non ditelo ai tifosi, a chi tra questi può interessare una questione giuridico-finanziaria rispetto a un pallone che rotola sul campo la domenica pomeriggio. Si è giocato ieri sera il terzo turno del Girone Alpoce di Riccia per il torneo Madonna del Carmine. La gara tra Barra, La Dolce Vita e Cuparelle contro la Divina Commedia Colle Sannita è terminata 4-3. In gol per i vincitori, Gianrusso, Shandra, Di Criscio e Taffuri. Per il Colle Sannita, tripletta di Falaguerra. Mentre Gelateria al Giubileo ha battuto 2-1 la rappresentativa Riccia Circello grazie alla doppietta di Perrella. In gol per la rappresentativa Riccia Cordone. Fine settimana di riposo per le squadre che torneranno in campo a partire da lunedì prossimo. Siamo al calcio di Serie D. Come ogni anno, la nuova stagione dell'Agnone inizia a fine giugno. Ieri il nuovo organigramma societario con Masciotra confermato presidente. Vediamo il servizio. Si svolta ieri in un clima di festa l'Assemblea Generale dell'Olimpia agnonese nel quale sono state rinnovate tutte le cariche dirigenziali. Sono state tutte riconfermate a fare ecco alla buona gestione sia dentro che fuori dal campo anche se c'è stato lo snellimento dello staff. In primis, diciamo, della rielezione come presidente del club di Carmine Masciotra ma al suo fianco ci sarà solo un vicepresidente cioè Fernando Sica che oltre a questa carica rimane anche responsabile del settore giovanile che è un orgoglio per tutto il Molise. A dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto il giovane agnonese Basilio Antonelli classe 2000 nella prossima stagione giocherà nelle giovanili della Roma andando avanti riconfermati anche Franco Marco Vecchio come direttore generale e Candido Ciccorelli come team manager. Come direttore sportivo ci sarà ancora una volta Maurizio Sabelli che si metterà subito al lavoro per Alessina in roster che affronterà un nuovo campionato di Serie D. Squadra molisana più longeva nella categoria. A far da ecola le elezioni è arrivata questa mattina la riconferma di Corrado Urbano sulla panchina Alto Molisano mister che ha ben fatto negli scorsi campionati. Dovrebbe essere riconfermato anche lo zoccolo duro della Rosa con l'unica incertezza di Sivilla che dopo l'ottimo campionato scorso sta ricevendo molte offerte anche da categorie superiori. Smentita secca arriva però dal presidente su Flogas come main sponsor. Infatti Flogas darà sì il suo contributo alla squadra ma non sarà lo sponsor principale che sarà annunciato la prossima settimana. Per il nuoto oggi e domani Cristiano Antioglu sarà impegnato nella Coppa Comen a San Marino prestigiosa manifestazione natatoria internazionale per categorie giovanili. L'atleta tesserato con la società Idrosport ha già vinto la medaglia di bronzo nella gara 200 d'orso chiudendo la gara stessa con il tempo strepitoso di 2 08 e 05 complimenti. Anche quest'anno l'associazione socioculturale Carcas Cerri ha organizzato un torneo per ricordare Salvatore Ravalli questo pomeriggio alle ore 17 e 30 sul manto verde di Cerro al Volturno in campo la Cerrese del 2003-2004 l'Isernia FC del 2001-2002 e gli Cerroquet il gruppo organizzato della tifoseria dell'Isernia. Ex calciatore del campo basso Marco Maestripieri oggi è il delegato regionale degli allenatori del Molise in quel di Coverciano sentiamolo in queste dichiarazioni. Marco Maestripieri allora parlare io ho parlato già con tanti ex compagni di squadra di Michele insomma di Guido Biondi però insomma parlare di Michele Conti è praticamente parlare della tua adolescenza. Sì hai detto hai detto bene Michele l'ho conosciuto il primo anno che sono venuto a Campobasso che era dal Montevarchi no dalla San Giovannese dalla San Giovannese nel lontano 77-78 perciò abbiamo fatto insieme tantissimi anni Michele forse lo conosco molto bene più degli altri pure perché ho giocato con lui anche G quando abbiamo fatto i campionati di C del campionato diciamo di serie suddista che era il campionato del girone più duro e tu lo sai ancora c'erano i tre gironi perciò poi sono diventati due perciò Michele lo conosco bene e per me ecco è stato un punto di riferimento anche perché insieme a lui ho avuto questa abitudine a non mollare mai a cercare sempre di dare il massimo ecco cosa che oggigiorno penso bisogna anche trasmettere alle nuove generazioni ma tu ci sei stato alla fine dieci anni perché fino all'87 88 e quindi praticamente se fai i conti hai giocato quasi 400 partite con la maglia del campo basso poi hai riditato anche la fascia la fascia di capitano sì ho fatto dieci anni come hai detto tu molte partite circa 400 ho riditato la fascia di capitano da Michele e da altre persone che l'hanno portata anche prima di me cercando sempre di di rispettare chi me l'aveva data la società i tifosi tutto quanto perché quando fa il capitano penso che racchiude tutte queste queste peculiarità e ti ripeto Michele appunto per me era anche un onore in quel periodo quando Michele non c'era più che io presti la fascia da capitano perché ricordavo sempre a lui e per me era un onore portare questa fascia sul braccio delle 400 partite che cosa vogliamo ricordare io per esempio mi ricordo per esempio il gol alla cavese eh il gol alla cavese infatti ma tu per esempio qual è l'episodio che ti ricordi di episodi ce ne stanno tanti perché poi vedi ma quello che ti è rimasto più impresso qual è stato impresso per esempio anche l'ultimo gol che ho fatto col camo basso prima da smettere cioè prima smette prima giornata di pioggia giornata di pioggia con la casertana quello forse è stato il gol più bello però anche il gol più triste perché poi ho finito quell'anno grazie a tante situazioni che si erano create non era più il camo basso di una volta non era più la società che conoscevamo e penso che anche il gol che mi ricordo di più che magari ho fatto questo con la cavese ha segnato un aspetto importante di quel campionato perché se ti ricordi quella vittoria lì noi andammo in testa con la cavese stessa e ci giocammo l'ultima partita a Rende poi successi di tutti perdemmo questo campionato all'ultima partita e quel gol fu importante ancora oggi parecchi ne parlano tiro grosso o meno però secondo me è stato un gol alla fine che è servito tanto in quel periodo per andare in testa sono tutti quanti uguali io sono sempre dell'avviso tu lo sai che per segnare dovevi mirare il calcio d'angolo però no ma infatti no no hai detto no ma vedi ma no perché voglio dire c'è gente tu per esempio per me sei stato diciamo sulla corsia destra sicuramente il giocatore che è il campo basso il giocatore più forte che ha avuto il campo basso però non c'era il gol nelle corde insomma no io ero non c'è non ci si può offendere voglio dire assolutamente ma io vedi anche però nella carriera come ho fatto nelle 400 partite ho superato i 30 golle non è poco per un centrocampista perché io poi ero bravo nei inserimenti che oggigiorno è uno delle diciamo di quelle caratteristiche che cercano anche gli allenatori moderni perché oggi i centrocampisti che si inseriscono ce ne stanno più pochi e allora io avevo questa caratteristica e non a caso mi adattavo anche bene al centro che tu sei benissimo e molte volte facevi anche le dispute con gli allenatori perché mi mettevano al centro perché mi mettevano al centro perché da lì dovevo puntare la porta chiaramente quando fai l'esterno poi che arrivi giù al fondo io poi avevo un modo di calciare che si può dire che la palla la calciavo mezzo con l'esterno la palla molte volte prendeva la traiettoria contraria io mi ci divertivo pure molte volte a calciare in questo modo poi non ti nascondo che con la cavese ho fatto un tiro grosso e l'ho detto sempre però Berlusconi a Scelschengo disse che aveva fatto un gran gol facendo lo stesso gol mio perciò io dico sempre che è stato un bel gol come hai detto tu è tornato anche quest'anno l'appuntamento con il football camp di Roccaraso diretto da Dario Bellomo ed il suo staff i ragazzi provenienti da tutta Italia quest'estate saranno impegnati con due appuntamenti giornalieri nei quali si cureranno i fondamentali di base con esercitazioni effettuate sempre con l'ausilio della palla staff tecnico di prestigio composto da professionisti quali Lorenzo Mazzeo Luigi Pasciullo Silvio Paolucci e Marcello Corazzini il primo turno inizierà domani fino al 7 luglio il secondo dal 7 al 13 luglio sono iniziati ieri e termineranno domani ad Orvieto i campionati italiani individuali di atletica leggera riservati alla categoria master due team della provincia di Campobasso e due di quella di Sernia che saranno presenti nell'impianto Umbro Barisciano e Sellitto saranno impegnati nella gara velocità Izzi nei salti Passot di Mario e Marro nel mezzofondo siamo al calcio giovanile si è chiusa ieri la diciottesima edizione del meeting dell'amicizia il torneo calcistico internazionale organizzato dalla polisportiva San Pietro e Paolo di Termoli per la categoria esordiente in finale il Mirabello ha battuto 1 a 0 i santissimi Pietro e Paolo nella categoria giovanissimi la Turris Santa Croce ha vinto 3 a 0 al danno del Mirabello a proposito della manifestazione padre Ronzetti ai nostri microfoni Padre Enzo Ronzetti si chiude questo bellissimo torneo veramente interessante siete sulla cresta dell'onda perché avete messo in piedi un'organizzazione non indifferente e questo è un pregio che tutti quanti vi fanno occhi importanti sugli spalti c'era anche il mister Cosco un lavoro eccezionale certosino basato sui ragazzi che sono cresciuti in questa polisportiva e soprattutto la grande ospitalità che avete dato un segnale importante e soprattutto che rafforza e stimola anche quello che bisognerà fare nel futuro ovvero proseguire su questa strada innanzitutto diciamo che questo deve essere l'ultimo meeting che accadrà su un campo in terra battuta e quindi cominceranno subito dopo il meeting i lavori per il campo in sintetica quindi penso che l'anno prossimo sarà ancora più spettacolare quest'anno infatti credo che la grande nella pioggia siano stati i nostri nemici numero uno abbiamo faticato molto anche se l'accoglienza è rimasta la gioia dei bambini per quello che gli abbiamo offerto per quello che abbiamo vissuto è rimasta la stessa se non addirittura si è moltiplicata perché il tempo così ha permesso di stare molto più a contatto di vivere molti più momenti insieme e speriamo che questi siano serviti a rafforzare il valore e il significato del meeting dell'amicizia sia per noi che stiamo qui in Italia e sia per quelli dell'estero aggiungo che questo è il primo anno in 18 anni che la polisportiva San Pietro e Paolo non vince né il campionato esordienti né il torneo giovanissimi questo è tutto dire insomma avete dato ospitalità anche nei risultati non solo a chi è stato vostro ospite ma anche nei risultati nel torneo ci siamo aperti agli altri abbiamo permesso che vincessero tutti e due i tornei ma questo è un bene perché altrimenti sembra sempre che il torneo lo prepari e lo vinci e in qualche modo sei sempre protagonista invece noi pensiamo che il vero protagonismo sia quello del calcio giovanile e quest'anno dando la targa ai mister io li ho chiamati maestri di vita e di sport e spero che capiscono che in questo momento così difficile ancora una volta toccato da qualche scandalo calcistico noi ci rendiamo conto che o prepariamo i ragazzi con un criterio e con dei valori che li portano ad essere uomini anche nello sport o altrimenti tutto il lavoro che facciamo non serve proprio a nulla un grande lavoro che avete fatto avete avuto anche la risposta delle famiglie che sono state vicino ai ragazzi hanno seguito questi ragazzi e soprattutto sono stati qua presenti sugli spalti in tutte le gare quindi hanno assistito con piacere allo sport più bello quello più sano in calcio giovanile e sì hanno seguito e li hanno seguito anche fuori perché noi sempre per allargare questa partecipazione siamo andati a fare alcune partite nei paesi limitrofi ci ha ospitato Guardia Alfiera ci ospiterà San Giuliano così che si coinvolgono in toto anche paesi che hanno dei campi belli e che probabilmente il calcio giovanile lo vivono così in maniera molto ridotta infatti adesso si concluderà e domenica avremo un piccolo triangolare a San Giuliano di Puglia ancora con gli albalesi e qualcuno che rimane proprio per dare spazio proprio ai piccolissimi che non hanno avuto lo spazio proprio per colpa dell'età per motivo dell'età dentro il nostro meeting dell'amicizia a darci appuntamento l'anno prossimo rafforzando questo torneo che compierà la diciottesima edizione battezzerà la diciannovesima edizione speriamo di affrontarla su un campo diverso sicuramente più bello più accogliente non solo per la città ma anche per la polisportiva e per la comunità di San Pietro e Paolo certo un'idea bella quella che ci è venuta se il campo sarà pronto io credo che sarà pronto che proprio per sottolineare questo dono per la nostra città di Termoli che era l'unica rimasta senza un campo in erba sintetica un campo attrezzato sarà quello di richiamare al meeting dell'amicizia tutte le squadre che storicamente in questi 18 anni sono passate di qui quindi speriamo di avere di nuovo la Bulgaria la Croazia Malta e le altre squadre solite come la Polonia l'Argentina e anche l'Albania che ormai da tre anni ci segue questo potrebbe essere il dono più grande che magari avremo cinque squadre straniere soltanto noi come italiani in occasione del quadrangolare fra i club ufficiali del Molise domani all'antistadio Selvapiana scenderanno in campo Milan Inter Juventus e Napoli la manifestazione inizierà alle ore 17 e l'ingresso è gratuito domani si terrà l'ottavo raduno nazionale organizzato dal club 500 di Campobasso gli equipaggi provenienti da numerosi comuni molisani e da diverse regioni limitrofe si riuniranno a partire dalle 8 del mattino e attraverseranno i punti più suggestivi del capoluogo il centro storico poi Ferrazzano e le strade di Ripalimosani soddisfazione per la nuova pallavolo Campobasso le ragazze dell'Under 13 hanno vinto il torneo regionale battendo in finale l'Isernia ai nostri microfoni le giovani campionesse vediamo siamo con la squadra dell'Under 13 della nuova pallavolo anche se non è completa il capitano Sofia allora avete riportato questa vittoria contro l'Isernia è stata una bella vittoria siamo dopo tanto allenamento finalmente siamo riusciti a portare qualche cosa nella nostra squadra siete giovanissime siete già delle campionesse è una bella soddisfazione sia per noi che per la nostra società è stato un grande un grande traguardo come ti sei avvicinata a questo sport? beh prima ho fatto nuoto poi mia cugina faceva pallavolo e anche io mi sono appassionata a questo sport e adesso è una mia passione che voglio coltivare nel tempo lo consiglieresti ad altre ragazze della tua età e perché? sì perché è uno sport bellissimo dove ogni giorno fai qualcosa di più ogni giorno impari qualcosa di più e come si può vedere portate a casa anche delle vittorie sì e questa è la cosa più bella di uno sport perché alla fine dopo tanto lavoro riesci a portare qualcosa qualche traguardo che ti ti dà molta felicità ti dà soddisfazione una considerazione con Claudia abbiamo saputo che sei stata una tra le ragazze che ha portato a casa questa vittoria eh sì come diceva Sofia dopo tanto allenamento siamo riuscite comunque a conquistare il titolo regionale e sono comunque belle soddisfazioni perché arrivano dopo tanto lavoro e quindi è proprio questo è stata proprio meritata perché abbiamo lavorato tanto vi siete scontrate contro tre formazioni molisane alla fine siete state le prime di questo match sì e allora le altre squadre non erano facili perché comunque anche loro hanno lavorato e ci hanno dato comunque il filo da torcere però poi c'è stata forse quella voglia di vincere che noi avevamo cioè noi avevamo di più forse siamo al podismo domani Agostino Cipolla della nuova atletica Eserne rappresenterà il Molise al ventunesimo Memorial Pierluigi Plebani Lombardia gara che rientra nel programma del campionato italiano corsa in montagna la categoria M60 dovrà percorrere 6 km e 200 metri con un dislivello che parte dai 400 fino ad arrivare ai 1000 metri chiusa la stagione dell'APD Cerce Maggiore con una salvezza il club come ogni anno ha voluto salutare tesserati tifosi affezionati con una festa finale ai nostri microfoni Giuseppe Duva vediamo Giuseppe Duva allenatore della prima squadra dell'APD Cerce Maggiore è sempre un piacere ritrovarsi a questa manifestazione la festa della vostra società quest'anno è andata bene con la salvezza all'ultima giornata ci sono già pensieri rivolti alla prossima stagione in quanto a programmi? No per il momento ci stiamo godendo questa salvezza molto sofferta guadagnata proprio all'ultima giornata è stata veramente un'annata molto particolare abbiamo subito diciamo parecchi episodi sfavorevoli sia dal punto di vista tecnico diciamo sul campo per esempio abbiamo rinviato quest'anno ben sei partite su questo campo e questo poi ha comportato una serie di problematiche nei recuperi perché abbiamo fatto molte gare ravvicinate nel giro di poco tempo ma non solo parecchi infortuni ragazzi che sono andati a lavorare fuori regione insomma un'annata molto molto particolare la sofferta salvezza per noi insomma è qualcosa di importante si festeggia si fa anche il punto della situazione con degli ospiti importanti ci sono Clemente Mastella ma lo stesso Gigi De Canio Mastella ormai un amico della Pd Cerce Maggiore ogni anno riuscite a portare qui in Molise degli ospiti di eccezione a livello calcistico si diciamo che questo appuntamento che noi svolgiamo da parecchi anni a fine stagione per noi è un pochino la manifestazione di prestigio della nostra società dove nell'occasione vogliamo premiare i ragazzi che si sono distinti durante la stagione sportiva dare diciamo la soddisfazione e la visibilità a questi ragazzi che pur rimanendo dilettanti sappiamo benissimo insomma in prima categoria non percepiscono alcun rimborso spese però diciamo il loro impegno merita anche una vetrina di questo tipo la presenza di ospiti importanti per noi è motivo di vanto e di prestigio per quanto riguarda l'onorevole Mastella è stato qui a Cerce Maggiore qualche anno fa la sua vicinanza è dovuta al fatto che Marco Porcaro il nostro responsabile della scuola calcio diciamo della scuola esordienti è un amico di famiglia dell'onorevole lui dice paluni quindi si conoscono da tempo insomma c'è un bel un bel rapporto sappiamo che l'onorevole ha dei trascorsi calcistici come dirigente come giornalista sportivo quindi ogni volta che viene qui insomma ci racconta aneddoti importanti del suo passato calcistico per noi è un piacere quest'anno abbiamo anche aggiunto la presenza di Gigi De Canio anche qui penso che insomma per Cerce Maggiore è un grande orgoglio ospitare un allenatore di serie A con un grande curriculum come Gigi De Canio in Molise non è la prima volta che viene personalmente ho avuto modo di conoscerlo qualche anno fa in occasione di un seminario dell'associazione allenatore a Campobasso all'epoca lui allenava in Napoli e grazie a Marco Maestri Peri che organizzò questo incontro a Campobasso ebbe modo di conoscerlo di andare a visionare anche un suo allenamento a Napoli e poi ebbe il piacere di riaccompagnarlo la sera nel ritiro del Napoli quindi per me è un motivo ancora di soddisfazione ospitarlo a Cerce Maggiore Circa 100 le adesioni presentate per il torneo Calcio Balì la città di Campobasso organizzato dall'associazione Arcobaleno in programma per questo fine settimana le gare sono iniziate oggi e proseguiranno anche domani dalle 10 del mattino in poi siamo ora alle bocce in rappresentanza del movimento femminile domenica preso parte alla gara organizzata dalla bocciofila Monforte la signora Di Mucci noi l'abbiamo avvicinata sentiamola in queste dichiarazioni siamo con la signora Di Mucci una delle rare rare donne qui in Molise che giocano a bocce rappresentante della società il molisano di Campobasso come si è avvicinata a questo sport? mi sono avvicinata tranne mio marito che giocava a bocce quindi comunque una passione condivisa brava sì una passione condivisa ho visto mano a mano mano a mano e mi è piaciuto pure a me un modo anche per trascorrere alla fine una giornata diversa in compagnia? no più una giornata diversa più diversa da soliti servizi di casa che facciamo quali sono le difficoltà che lei incontra quando gioca? niente qua non è un tanto ti può andare bene e tanto ti può andare male queste sono le difficoltà devi guardare sempre all'avversario più o meno dove si mette dove ci sono anche molti giovani che comunque pian piano si stanno avvicinando a questo sport oddio qualche giovane ci stanno qualche giovane ma non tanti questo più per la torsità andami prosegue oggi il torneo King of Playground il torneo di streetball basket 3 contro 3 nel campo all'aperto della nuova comunità di Ferrazzano la due giorni dedicata non solo al basket ma anche ad altre attività è aperta a tutti giocatori appassionati professionisti dilettanti grandi e piccoli bene questa era l'ultima notizia di questa prima edizione del nostro TG Sport vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con le nostre trasmissioni